Non fidatevi, in Vaticano nulla è mai come sembra, mai. La notizia dalla convocazione a processo da parte del Dicastero per la Dottrina della Fede, quindi di Tuccio Fernandez, del forse ex arcivescovo Carlo Maria Viganò, dico ex perché non ha mai smentito di essersi fatto riconsacrare vescovo dallo scismatico, Monsignor Williamson, sta spopolando sui media. Molto, molto strano. Dal 2019, almeno dall'affare McCarrick, Viganò non veniva più preso in considerazione dal mainstream. Adesso invece tutti i riflettori sono puntati su di lui. Strano, no? Ancora più strano è che lo stesso Viganò, finora ignorato dalle gerarchie vaticane, proprio ieri guarda caso a due settimane dal deposito presso il Tribunale Vaticano nell'istanza per il riconoscimento della nullità dell'abdicazione di Papa Benedetto, e della sua sede impedita, venga improvvisamente chiamato a rispondere di quanto detto e fatto negli ultimi cinque anni. Nella convocazione si parla anche esplicitamente del fatto che Viganò abbia messo in dubbio la legittimità di Bergoglio, ma lo stesso prelato, in una delle sue ultime conferenze con il professore americano Edmund Mazza, in un discorso del tutto contraddittorio, dove raccomandava di astenersi da stratte speculazioni canoniche, mentre al contempo lui stesso teorizzava l'impeachment di Bergoglio per un fantasioso vizio di consenso, in questa conferenza Viganò affermava categoricamente «Non abbiamo il diritto di dire che Bergoglio non è Papa». Ascoltiamo che cosa diceva. «Quello che non possiamo fare, perché non ne abbiamo l'autorità, è di dichiarare ufficialmente che Jorge Mario Bergoglio non è Papa. La terribile impasse nella quale ci troviamo rende impossibile qualsiasi umana soluzione». Ecco, Viganò nasconde completamente e apposta, dato che è stato abbondantemente informato, il combinato disposto fra gli articoli 76 e 77 della Universi Dominici Gregis, dove si afferma esplicitamente che se la rinuncia del pontefice non è avvenuta a norma del canone 3.32.2, canone in cui si richiede la rinuncia al munus, cosa mai avvenuta, l'elezione è nulla invalida, senza che intervenga alcuna dichiarazione in proposito. Quindi, Monsignor Viganò avrebbe potuto tranquillamente dichiarare che Bergoglio non è il Papa, secondo tale Costituzione, almeno come Cristi Fidelis. Ma non lo ha fatto, non lo fa e probabilmente non lo farà. Ora, ciò che è peggio è che, nonostante Monsignor Viganò sia stato letteralmente bombardato da chi vi parla nel carteggio degli ultimi anni di articoli, libri, lettere pubbliche, lettere private, appelli filiali, eccetera, non ha minimamente voluto prendere in considerazione la questione della sede impedita, non ha mai voluto ragionarvi sopra, si è limitato solo a screditare chi vi parla a livello personale, affibbiandogli l'abusato e ridicolo cliché del romanzo di Adam Brown, nonostante una quadriennale inchiesta, alla quale hanno partecipato latinisti, canonisti, storici della Chiesa, avvocati, giuristi, filosofi di fama, psichiatri, psicologi, eccetera, eccetera. Ripetiamo quanto già affermato ieri, cioè se la inchiesta a codice Ratzinger fosse un romanzetto, sarebbe stato ben rischioso depositarla in tribunale. Allora, perché dunque Monsignor Viganò evita come la peste l'unica soluzione definitiva? Eppure lui stesso nel 2022, il 5 aprile, sul blog di Aldo Mariavalli, affermava ma prima di discutere del prossimo conclave occorre fare luce sull'abdicazione del Benedetto XVI e sulla questione dei brogli del conclave del 2013 che prima o poi dovranno dare luogo a un'indagine ufficiale. Se vi dovessero essere prove di irregolarità, il conclave sarebbe nullo, nulla l'elezione di Bergoglio, così come nulle sarebbero tutte le sue nomine, gli atti di governo e di magistero. Un reset che ci riporterebbe provvidenzialmente allo status quo ante con un collegio cardinalizio composto solo dai cardinali nominati fino a Benedetto XVI e stromettendone tutti quelli creati dal 2013 notoriamente ultra progressisti. E allora, dato che abbiamo servito su un piatto d'argento a Monsignor Viganò uno studio completo sull'abdicazione di Benedetto nulla invalida esattamente per conseguire questo obiettivo, come mai lo ha evitato senza nemmeno esaminarlo o smentirlo? Dice, no, guardi, ciò non ce la ringrazio, lei si è impegnato tanto ma vede la questione della sede impedita non funziona per questo e quest'altro motivo. No, mai nulla del genere. Forse aveva un'altra strategia Monsignor Viganò, niente affatto perché lui non ha messo in campo alcunché per contrastare Bergoglio o metterlo in discussione, anzi, dice l'unica cosa che non possiamo fare è dichiarare che Bergoglio non è il Papa. Piuttosto Monsignor Viganò si è limitato a fondare un'associazione ex urge domine per raccogliere denari, cosa avvenuta in modo controverso come testimoniato dalla vicenda delle monache di Pienza che ha creato sconcerto perfino tra i suoi sostenitori. Ricordiamo le lettere di Ecclesiadei che più di una volta si sono detti insoddisfatti delle spiegazioni non fornite o fornite a metà da Monsignor Viganò. Questa raccolta di fondi servirebbe per fondare una sorta di enclave tradizionalista. Allo stesso tempo Monsignor Viganò ha terribilmente diffamato Papa Benedetto scrivendo su Twitter, poi l'ha rimosso il post, l'ha rimosso, ma io ho archiviato tutto. Siamo governati da apostati e questo dura dai tempi del concilio. Così come mise un like a un tweet che affermava Ratzinger è eretico tanto quanto runner. Ha utilizzato gli scritti del 25enne Josef Ratzinger per screditarlo dandogli del legheliano, come se fosse un insulto poi dare del legheliano a qualcuno e del modernista. In questa opera è stato volenterosamente aiutato dai professori Massimo Viglione ed Enrico Maria Radelli. Come sapete costoro sostengono, benché con alcune sfumature differenti, che Benedetto XVI pur cacciato dai modernisti avesse voluto dare un colpo di coda creando una sorta di doppio papato modernista scambiando la reale e ovvia dicotomia tra un antipapa attivo e un papa impedito per quella che loro chiamano aberrazione giuridica con un vero papa attivo e un vero papa in pensione. Un tragico fraintendimento, lucciole per lanterne. Non si capisce infatti perché Ratzinger avrebbe dovuto regalare proprio il doppio papato modernista ai nemici modernisti che lo avevano cacciato. Tra l'altro, per citare una ovvietà, se ci fossero stati due veri papi perché Benedetto nei nove anni dai merito impedito avrebbe ribadito il papa è uno solo? Scusate, o sono due o è uno solo, no? Non rispondono su questo. Questa dottrina del doppio papato modernista che è semplicemente lunare ed è tenuta in piedi forse solo per puntiglio intellettuale si può però rivelare un utilissimo strumento nelle mani di Bergoglio. Vedete dove non c'è la verità. Sempre chi ha interesse ci mette le mani sopra. Ora, la dimostrazione del fatto che Benedetto fosse impedito risiede fra le mille altre cose ma il dato più ovvio e immediato è che è la falsificazione che è stata fatta dalla Declaratio specie nella versione tedesca dove il Munus, Amt e il Ministerium Dienst sono stati artatamente scambiati di posto come già abbiamo denunciato alla Gendarmeria Vaticana alla Guardia Svizzera, alla Segreteria di Stato qualche mese fa con la firma di una dozzina di avvocati quindi se nessuno si fosse accorto dell'illegittimità della Declaratio e tutti fossero stati in buona fede gabbati dal modernista eretico Ratzinger perché hanno operato questa mistificazione? Se fosse vero quello che dicono Viglioni, Radaeli, Viganò ah, Sira, Ratzinger ci ha regalato il doppio pavato modernista eh, noi cardinali non ce ne siamo accorti perché che volete? noi siamo tutti anime candide di questi aspetti canonici non ne capiamo nulla allora perché avete cambiato di posto al Munus e al Dienst? al Munus e al Ministerium Amt e Dienst? Monsignor Viganò la sa questa cosa perché gli abbiamo mandato ma se ne infischia il suo modus operandi dopo anni di disperati tentativi di instaurare con lui un dialogo sulla patente realtà della sede impedita mi ha portato a pensare che l'Arcivescovo sia un perfetto gatekeeper cioè un promotore del dissenso controllato e che egli di fatto convogli tanti tradizionalisti e bravi cattolici portandoli sul binario morto della assoluta inoffensività per Bergoglio ecco adesso con questa storia del processo in tanti che lo avevano già dimenticato torneranno a considerarlo un paladino antibergogliano e trac finiranno nel sacco quindi in questo contesto inquadriamo in modo molto coerente lo stranissimo tempismo della stranissima convocazione a processo promulgata da Tuccio Viganò potrebbe risultare utile strumento sotto vari aspetti a un livello elementare questo provvedimento potrebbe funzionare come un'intimidazione verso i prelati che volessero prendere posizione contro la legittimità di Francesco vedete? attenzione eh? perché adesso vi chiamiamo a processo vi mettiamo sotto sarebbe anche un ottimo diversivo mediatico per stornare l'attenzione da un eventuale processo sulla sede impedita di Ratzinger oscurandolo oppure per confondere la gente con argomentazioni fumose e divergenti si il concilio Ratzinger modernista eccetera eccetera non si capisce più niente non si riesce a fare il focus sulla sede impedita di Benedetto poi c'è un altro aspetto se il processo in sede del tribunale di Castello per la fede dovesse condannare Viganò questa sentenza potrebbe far fare di tutt'erba un fascio con la sede impedita e o tentare di condizionare l'operato dei magistrati del tribunale dello stato della città del Vaticano creando una sorta di conflitto fra i due tribunali ma come il tribunale del di Castello per la fede ha condannato Viganò ha detto che Papa Francesco è il vero Papa e adesso noi che facciamo diciamo che Bergoglio non è il Papa e come si fa eccetera si crea una forma di conflitto ma io ribadisco la massima fiducia alla magistratura del tribunale Vaticano Bergoglio le sta approvando tutte come abbiamo visto ieri con tutti gli articoli articoletti che sfiorano i codici Ratzinger sfiorano le sue dichiarazioni e dichiarazioni di Benedetto ma poi evitano in modo chirurgico la questione della sede impedita tra l'altro nella sua disperata corsa ai ripari Bergoglio ha pubblicato a razzo e anticipatamente il libro di propaganda El Suessor la traduzione era prevista per l'autunno e invece è stata poi anticipata al 18 giugno e poi cosa interessante ha anche nominato un nuovo cancelliere al tribunale della segnatura apostolica giusto ieri l'ha fatto è davvero nei guai ma la mossa più ardita e furba potrebbe sfruttare consapevolmente o inconsapevolmente proprio Viganò immaginiamo questo scenario l'arcivescovo va a processo e si difende a spada tratta parlando della nullità dell'abdicazione di Papa Ratzinger non per sede impedita ma spacciando ai media la barzelletta blasfema del benedetto sedicesimo eretico e modernista e dell'impossibile doppio favato a questo punto il dicastero per la fede in un sussulto di onestà intellettuale gli potrebbe dare inaspettatamente ragione e così accidenti è tutto da rifare dobbiamo convocare i cardinali pre-2013 per un conclavetto farsa per rialeggere formalmente Bergoglio o meglio eleggerlo validamente per la prima volta così Bergoglio verrebbe sanato il temporaneo impasse sarebbe tutta colpa quindi di un Ratzinger eretico rimbambito e modernista e questo piccolo disastro sanato grazie al buon Viganò che avrebbe in cambio l'assoluzione e le sue prebende giustificherebbe ancora meglio la demolizione definitiva di tutto ciò che resta della vecchia chiesa e dei papi postconciliari non ci credete? avrete presto una prova evidente di questo disegno nel fatto che Viganò nella sua difesa continuerà ad evitare in modo chirurgico di parlare della sede impedita di Benedetto XVI non ne farà la minima menzione e anche i media confiscati da Bergoglio se ne guarderanno bene ma sarà proprio l'assordante silenzio sulla questione della sede impedita a metterla ancora più in risalto perché poi fanno anche le cose fatte male questi qui attenzione fino ad oggi non ha mai pagato tentare di screditare il vicario di Cristo è sempre stato un terribile boomerang un'operazione del genere oltre a far guadagnare l'inferno per direttissima in ottica spirituale i suoi promotori per impugnazione della verità l'imperdonabile peccato contro lo Spirito Santo è anche destinata al fallimento perché poi il mondo realmente cattolico e c'è ed è rimasto non accetterà di vedere così screditato il più grande Papa degli ultimi secoli che ha purificato la Chiesa spazzando via il serpente antico dell'ognosticismo e della massoneria ecclesiastica l'importante è che chissà della sede impedita e tutti sanno in Vaticano perfino i custodi dei musei smetta di avere paura basta con questa paura preternaturale per favore e permetta alla verità e alla legge di dilagare e travolgere i nemici della Chiesa quindi cari amici non fidatevi affatto di Monsignor Viganò non riponete in lui alcuna speranza perché già sta virando sul concilio sul modernismo eccetera eccetera potrebbe essere perfettamente strumentalizzato da Bergoglio ormai vi siete scaltriti non prendete per oro colato tutto quello che vi dicono noi ci vediamo oltre che il 29 a Perugia il 30 domenica alle ore 16 presso l'hotel St. John di Roma via Matteo Boiardo 30 per una conferenza di terzo livello romana dove parleremo di Viganò parleremo del verosimilissimo attentato a Cuba parleremo dell'istanza e di tante altre novità prenotazione consigliata scrivendo a petizione cr chiocciolalibro.it ingresso naturalmente offerta libera grazie vi aspetto